Dottor Fini, oggi sono entrate in vigore le nuove norme di tutela nei riguardi del Covid per le scuole. In che cosa consistono? Sostanzialmente è stata una serie di misure che sono state prese fondamentalmente per garantire il più possibile la didattica in presenza. Quindi evitare che, come è accaduto finora, ci fosse una sorta di automatismo fra l'accertamento di un caso di positività all'interno di una sezione o di una classe e l'immediata messa in quarantena di quella stessa classe. In estrema sintesi, per lo 06, quindi per i più piccoli, la scuola degli asili nidi e la scuola dell'infanzia non cambia molto, anche perché è la fascia dove i bambini non portano neanche mascherine, non sono tenuti a portare mascherine e quindi rimane la gestione precedente sostanzialmente. Invece per le scuole dalla primaria in su c'è una gradazione, quindi se in presenza di un solo caso positivo non ci sarà più la quarantena automatica, ci sarà una serie di accertamenti rapidi che le ASL eseguiranno dando priorità a questo tipo di test per consentire un rientro il più possibile veloce in classe, in presenza. Naturalmente se invece all'interno della classe si verificassero due o anche tre casi positivi allora si andrebbe alla quarantena e in caso di due c'è una differenza a seconda che i soggetti siano vaccinati oppure no. È un meccanismo più complesso, diciamo che comunque in questo contiamo di essere sempre comunque assistiti dal nostro Dipartimento di Prevenzione con il quale finora abbiamo in questi ormai possiamo dire anni, abbiamo sempre lavorato con grande sinergia, insomma grande spirito di collaborazione. Ci sono alcune preoccupazioni da parte dei colleghi e dei dirigenti scolastici sull'eventuale chiamata in causa del dirigente scolastico su discrezionalità di azione in materia sanitaria. Ovviamente noi non abbiamo nessun tipo di competenze di questo tipo, di questo genere, per cui la nota ministeriale recentemente pubblicata specifica che noi non siamo tenuti a prendere decisioni sanitarie ma soltanto a mettere in atto una serie di, diciamo così, una procedura standardizzata. Che peraltro sono molto simili a quelli che abbiamo sempre seguito, ad esempio siamo stati quasi sempre noi a essere al corrente di un caso di positività e a comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione. È raro che sia accaduto il contrario, ma questo è evidente perché le famiglie ci informano in maniera molto rapida. Nello specifico spezzino io sinceramente mi sento abbastanza tranquillo, anzi molto tranquillo perché abbiamo informalmente avuto già assicurazione da parte della dottoressa Gavarini che ci ha seguiti passo passo in questo periodo e ci ha assicurato che comunque ci darà, ci presterà comunque la necessaria assistenza in tutte le fasi di questa nuova procedura.